6.220 kg di alimenti raccolti dalla Caritas per sostenere le famiglie in difficoltà. Questo è il risultato eccellente della colletta che sabato scorso si è svolta fuori dall'Ipercop e Cop di Via Vittorio Veneto di Arezzo. La raccolta di sabato ha avuto un significato molto importante. Innanzitutto di chiesa perché sono stati più di 104 i volontari provenienti da una ventina di Caritas parrocchiali che hanno partecipato alla raccolta straordinaria per la Caritas. Questo è un segno di chiesa, un segno pastorale importante. Le Caritas parrocchiali vivono sul territorio delle situazioni di emergenza e di bisogno sempre pressanti e quindi hanno bisogno di reperire beni primari di prima necessità. E questa raccolta va proprio a beneficio delle attività che le Caritas parrocchiali svolgono settimanalmente presso i loro centri di distribuzione. Il materiale verrà adesso utilizzato nei servizi delle 36 Caritas parrocchiali sparse in tutto il territorio della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, ma anche presso il centro di ascolto diocesano di Via Fonte Veneziana, presso le menze e tutte le realtà con le quali la Caritas collabora quotidianamente. È stato un grande segno di partecipazione dei cittadini, della cittadinanza, che hanno contribuito a far sì che i 6.000 rotti chili di alimenti e di prodotti di prima necessità fossero appunto poi raccolti e donati e destinati alle famiglie in difficoltà. Grazie. 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 Grazie.